12 super alimenti per un fegato sano Aiutare il fegato con scelte alimentari consapevoli è fondamentale per la salute di tutto l'organismo in generale, compresa la mente, perché il fegato gioca un ruolo chiave nella detossificazione, nel metabolismo dei nutrienti, nella produzione di proteine essenziali per la vita e nella regolazione delle sostanze chimiche nel sangue. Una dieta ricca di certi alimenti può supportare le funzioni del fegato, migliorando la sua capacità di filtrare le tossine dal corpo. E se allontaniamo le tossine e stiamo veramente bene, vediamo quali sono questi 12 alimenti insieme, che non dovrebbero mai mancare e che possono aiutare a pulire il fegato. 1. Barbabietole, perché sono ricche di antiossidanti, che migliorano la circolazione e promuovono la pulizia del fegato. 2. Le carote, contengono beta-carotene, che il fegato converte in vitamina A, che aiuta nella detossificazione in generale dell'organismo. 3. La mela, perché è ricca di pectina, che è una fibra solubile che aiuta a eliminare le tossine dal tratto digestivo, riducendo il carico sul fegato. L'aglio, contiene allicina e selenio, due potenti sostanze nutritive per la pulizia del fegato. 5. Il cavolo, come tutte le crucifere, aiuta a stimolare l'attività degli enzimi di detossificazione del fegato. 6. Limone, che è ricco di vitamina C, aiuta ad allontanare dal corpo tutta una serie di sostanze potenzialmente nocive. 7. La curcuma, aiuta a produrre la bile migliorando la pulizia del fegato. 8. Tutte le verdure e foglie verde, che sono ricche di clorofilla, che assorbono le tossine dal flusso sanguigno e supportano il fegato. 9. Nirtilli e lamponi, che contengono antociani, che proteggono il fegato dai danni dello stress ossidativo. 10. Le noci, perché sono ricche di omega 3 e supportano le funzioni di pulizia del fegato. 11. Il tè verde, contiene catechine antiossidanti che assistono alla funzione epatica. 12. L'avocado, promuove la produzione del corpo di glutatione, che è necessario per il fegato per filtrare le sostanze nocive. 13. Mantenere il fegato pulito ed efficiente è strategico per migliorare altre funzioni, tra cui supportare il metabolismo. 14. Tutto questo aiuta a regolare i livelli di zuccheri nel sangue e a metabolizzare i grassi. 15. Addio alla pancia. 16. Aumentare l'energia. 17. Un fegato funzionante, in modo efficace, migliora la vitalità e il benessere generale. 18. E poi migliora la digestione, cioè un fegato sano producebile, essenziale per la digestione e l'assorbimento di grassi. 19. E poi la detossificazione, cioè filtrare, rimuovere le tossine dall'organismo, proteggere dai danni potenziali e supportare il sistema immunitario. 20. Pulendo il sangue contribuisce a mantenere forte il sistema immunitario. 21. Questo è tutto quello che in generale fa il fegato, ma fa veramente tanto, tanto di più. 22. Ovviamente ho citato solo alcuni degli alimenti che possono aiutare, ma in generale una dieta antinfiammatoria e ricca di alimenti vegetali può contribuire a mantenere il fegato sano, migliorando la tua salute proprio in generale. 23. Metti un bel mi piace, condividi il video e iscriviti al canale attivando la campanellina. Ciao a tutti!